sono fabrizio coccetti e sono l'attuale capo scout fino a domani sono fabrizio marano e sono il nuovo capo scout da dopo domani allora caro fabrizio che percorsi ti lascio quelli che abbiamo vissuto in questi quattro anni penso al percorso che va sotto il cappello dell'educare oggi con una riflessione che è durata per tre anni al consiglio generale recuperando quelle che sono le scelte del patto associativo e declinandole nella società di oggi ti lascio il percorso sull'educare la vita cristiana ti lascio il percorso sulla partecipazione che è iniziato oggi perché l'idea che la nostra associazione non è chiusa ma è un'associazione aperta che capi e ragazzi insieme cerchiamo di trasformare il mondo e ti lascio anche il percorso di adeguamento di statuto e regolamento per il terzo settore guarda la tua generosità nel lasciarmi tutte queste cose mi confonde mi commuove mi lascerebbe anche un'ipotesi aperta quella di lasciare a te comunque per il momento di conservare queste cose poi magari le passa a prendere più tardi senza dubbio ti aiuterò quando ti servirà buona strada al nuovo capo scout e grazie a fabrizio il capo scout vigente buona strada ciao